Un entusiasmo che aumenta con il vantaggio Caputo da solo, Caputo prima di entrare in aria splendida esecuzione questa di Caputo che riporta subito in parità il Salerno con un gol davvero molto bello secondo gol per il giocatore in arrivo dall'Atletico Roma in questo campionato per questo 31enne dalle grandi qualità Un gol spettacolare per precisione, per bellezza, per eleganza è pur vero che comunque qui c'è da chiamare in causa l'intero pacchetto arredato del Città Vecchia che ha lasciato spazio qui lo stiamo rivedendo qui si coordina bene un mezzo cucchiaio, un mezzo pallonetto nell'angolo lì dove Germanelli non può arrivare mai Grande gesto naturalmente palistico Splendido, splendido Dobbiamo però confermare e dire anche noi che insomma ci è sembrato fin troppo facile questa percussione ci è sembrato fin troppo facile questa percussione sulla sinistra addirittura è andata a una conclusione da fuori area è andata a una conclusione da fuori area